Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! Tanta paura quest'oggi quando un malore improvviso si è verificato in diretta tv, con la trasmissione che è stata prontamente interrotta e i soccorsi che sono arrivati sul posto. La situazione ha generato molta preoccupazione per il modo in cui la nutrizionista Teresa Coccaro è crollata. Il timore, infatti, come riportato da clarin.com, è che potesse trattarsi di qualcosa di piuttosto grave. L'episodio si è consumato in diretta su Buenes di SMH, programma condotto in Argentina da Antonio Laie. Di seguito potrete vedere il video che mostra quanto è accaduto. Quando Teresa Coccaro è svenuta all'improvviso, è stata immediatamente soccorsa e la trasmissione è stata interrotta. Stando a quanto riferito da clarin.com, pochi minuti dopo sul posto è giunta un'ambulanza ed i medici sono riusciti a stabilizzare la nutrizionista. Fortunatamente dovrebbe essersi trattato solo di un calo di pressione, ma i medici hanno consigliato la Coccaro di sottoporsi a tutti gli esami del caso per escludere ogni possibile patologia. Sottoporsi